Ok, allora partiamo dalla presentazione delle slide che vi ho mandato, ovviamente partendo dall'inizio, dicevo studieremo appunto i principi fondamentalmente degli strumenti che si impiegano per le misure dell'unione della frequenza per quanto riguarda sia in generale gli strumenti analogici che quelli basati su principi digitali. Nella lezione di oggi e domani vedremo solo quelli basati sui principi analogici, mentre invece nella lezione di giovedì faremo invece gli anitori di spettro basati su FFT e quindi su principi digitali. Allora, ovviamente prima di addentrarci nella spiegazione dei vari principi e dei vari strumenti facciamo un rapido ripasso di alcuni concetti di base che ci serviranno per parlare del dominio della frequenza. In particolare sapete bene tutti che dato un segnale X di T nel dominio del tempo, lo spettro solitamente indicato con X grande di F o di omega se si fa riferimento alle pulsazioni, si ottiene calcolando la trasformata di pureta attraverso l'integrale che è riportato diciamo in questa slide. Questo ovviamente ci dice la teoria e quindi di fatto la trasformata di Fourier e ovviamente l'antitrasformata è l'operatore matematico che ci consente appunto di passare dal dominio del tempo al dominio della frequenza e viceversa. Ma perché in generale conviene in alcuni casi misurare nel dominio della frequenza? O addirittura diventa obbligatorio misurare nel dominio della frequenza piuttosto che nel dominio del tempo? Perché come avete cominciato già a notare in vari contesti, non solo all'interno di questo corso, per esempio la caratterizzazione di componenti e sistemi attraverso appunto la risposta in frequenza è un qualcosa che mette in evidenza, crea un grafico fondamentalmente, crea un diagramma in cui sull'asse delle X abbiamo delle frequenze o delle pulsazioni e sull'asse delle Y sono per esempio dei guadagni. E quel diagramma è appunto un diagramma che ci permette di capire quel sistema come funziona in funzione appunto della frequenza, come si comporta in funzione della frequenza. Inoltre se andiamo, diciamo, a andare invece, spostiamo l'attenzione sui segnali di telecomunicazione, l'estrazione di alcune informazioni da questi segnali è praticamente non semplice nel dominio del tempo, mentre diventa abbastanza semplice nel dominio della frequenza, come per esempio l'estrazione della banda di un segnale, piuttosto che le caratteristiche di una modulazione e quant'altro. In più, spesso il dominio della frequenza consente di rappresentare anche segnali tutto sommato complicati attraverso sovrapposizione di componenti spettrali e quindi ci consente di vedere proprio visivamente in maniera più rapida di cosa è costituito un segnale e quindi di decomporlo, eventualmente andare ad analizzare singolarmente le varie parti di questo segnale. Nelle operazioni di demodulazione spesso è importante ragionare nel dominio della frequenza invece che nel dominio del tempo, così come in altri contesti come, non so, quello della compatibilità elettromagnetica, come vedrete per esempio nel corso che faccio io al secondo livello sulla parte del compatibilità elettromagnetica, così come le analisi di problematiche di signal integrity, cioè quando si progettano per esempio dei sistemi elettronici, soprattutto quella colonna ad alta velocità come quelli ovviamente attuali e moderni, quello che accade, può accadere in generale, è che i sistemi non funzionino bene perché c'è una sorta di interferenza che si verifica tra magari le piste di questi circuiti elettronici che sono molto vicine fra loro per questioni anche di spazi, di ingompri, di volontà sempre di andare verso una miniaturizzazione degli oggetti e che però quando percorse da segnale ad altissima frequenza tendono a diventare in pratica delle antenne non volontarie e quindi diciamo irradiano dei segnali alle piste vicine rendendo di fatto incomprensibili le informazioni che vi viene trasmessa. Queste problematiche note come appunto problematiche di signal integrity sono problematiche che spesso si riescono ad analizzare nel dominio della frequenza e a risolvere i problemi nel dominio della frequenza. Così come per parlare delle, non so, il tuning, quindi la messa a punto, la regolazione di reti mobili e ponti di collegamento wireless in generale spesso richiedono le misure nel dominio della frequenza. Detto questo andiamo a richiamare qualche altro concetto di base, in particolare qualcuno di questi li abbiamo già richiamati anche nel corso di misure, però vi ricordo che se io ho un segnale periodico nel tempo, i crediti, qualsiasi sia la sua forma, è possibile svilupparlo in serie di Fourier e quindi attraverso la formuletta che è riportata in questa slide dove poi i vari coefficienti all'interno delle sommatorie e all'esterno vengono definiti attraverso gli integrali che sono riportati nel riquadro rosso. Questa rappresentazione fa sì che se ci ricordiamo il modo in cui si passa dal dominio del tempo al dominio della frequenza, in particolare a come si disegna lo spettro di un segnale, e cioè ci ricordiamo che per esempio la frequenza di una sinusoide corrisponde in pratica un'unica riga spettrale, anche detta tono, che è centrata alla frequenza F0 della sinusoide, quindi l'inverso del periodo della sinusoide, se indiciamo con T0 per esempio il periodo della sinusoide, e ovviamente questa riga spettrale di ampiezza che è legata all'ampiezza della sinusoide, capiamo che se diciamo prende una qualsiasi forma d'onda, per esempio un'onda quadra che è sviluppabile in serie di Fourier perché è un'onda periodica, e mi vado a calcolare i vari coefficienti, scopro che per esempio per una forma d'onda tipo quella che ho riportato in questa slide, sopravvivono le componenti dispari della fondamentale, con ampiezze via via decrescenti secondo una certa regola, capiamo che nel caso di questo tipo di segnali di onda quadra, io ottengo che lo spettro è appunto ottenuto come sovrapposizione, come somma di un certo numero di righe spettrali, in realtà un numero infinito, con ampiezze via via decrescenti e centrate opportunamente alle frequenze multiple, nel caso specifico, della fondamentale. In entrambi i casi, quindi sia che si tratti di un segnale puramente sinusoidale, sia di un segnale invece più ad onda quadra, o comunque può essere anche qualsiasi altro segnale periodico, quello che è noto da come è disegnato lo spettro, che diciamo ottengo degli spettri cosiddetti a righe, cioè avete in pratica una rappresentazione di fatto discreta dello spettro, in cui anche se il numero n magari di righe può diventare infinito, ma comunque è chiaramente distinguibile ciascuna riga dello spettro. E questo è un fatto che vale, diciamo, nei casi in cui i segnali appunto sono periodici nel tempo, indipendentemente dalla loro formula. E cosa significa a questo punto caratterizzare e quindi misurare lo spettro di un segnale periodico nel tempo? Visto che si parla di spettri a righe, significa fondamentalmente riuscire a identificare, quindi a misurare, i parametri di ciascuna riga. E quali sono i parametri di ciascuna di queste righe spettrali? Quindi fondamentalmente l'ampiezza e la frequenza a cui sono collocate. Tenete presente, sempre per un fatto di anche accortarci sulle definizioni, o comunque sul modo in cui chiamiamo alcuni termini, che quando si ha a che fare con componenti spettrali che sono multiple di una frequenza fondamentale, come per esempio nel caso dello sviluppo dell'onda quadra o comunque di qualsiasi altro segnale periodico, queste componenti spettrali multiple della fondamentale vengono anche dette armoniche della fondamentale. Più genericamente però lo spettro di un segnale è costituito da un certo numero di componenti spettrali. In generale non necessariamente, diciamo, identificabile come armoniche della fondamentale, perché non sempre poi io all'interno di uno spettro trovo per forza qualcosa che è, diciamo, multiple della fondamentale di un segnale. Ok? E quindi più genericamente si parla di componenti spettrali, nel caso specifico di multiple della fondamentale si parla anche di armoniche della fondamentale. Cosa succede quando i segnali non sono periodici nel tempo, come accade soprattutto nei moderni sistemi di telecomunicazione? Quindi abbiamo dei DICS e DT che non hanno una forma periodica, hanno una forma strana, in alcuni casi molto spesso hanno una forma nel dominio del tempo che somiglia molto al rumore, infatti spesso si parla di segnali noise-like. E cosa accade nel dominio della frequenza? Praticamente lo spettro non è più costituito da un certo insieme di righe, di righe spettrali, ma inizia ad avere una connotazione più che altro di spettro continuo invece che di spettro discreto. Per cui, diciamo, magari nell'andare a calcolare lo spettro e eventualmente a misurare lo spettro di questo segnale trovate degli spettri appunto che non presentano delle righe ma delle forme che possono essere più o meno qualsivoglia. Ovviamente qua sono dei disegni riportati qui, ma giusto per una questione di comodo. e però quello che è chiaro è che appunto diventa poi difficile parlare di frequenza fondamentale, quindi perde di significato il concetto di frequenza fondamentale e più che altro si parla di power spectrum density, cioè o anche di PSD, probabilmente ne avete già sentito parlare abbondantemente in altri corsi, per descrivere poi di fatto lo spettro di un segnale. Poi solitamente si definisce una PSD, quindi una power spectrum density, su un certo range di frequenze e poi su quel range di frequenze eventualmente si vanno a determinare per esempio dei parametri come la potenza del segnale piuttosto che l'energia e quant'altro. Detto questo, io su questa introduzione sono stato relativamente veloce perché ovviamente sono concetti che un po' conoscete anche già dagli altri corsi, però se vi rimane qualche dubbio, ovviamente interrompetemi e cerchiamo, se è un dubbio rapido, di risolverlo subito in tempo reale durante la lezione, altrimenti magari al solito vi rimando all'orario di ricevimento. Per quanto riguarda invece le tipologie di strumenti che consentono di effettuare l'emissione della frequenza, possiamo suddividerli in due categorie principali. La prima categoria che può essere etichettata come strumenti cosiddetti analogici e la seconda come strumenti cosiddetti digitali. Allora, perché questa classificazione è una classificazione che va presa tra virgolette? Perché fondamentalmente, soprattutto oggigiorno, anche negli strumenti più moderni, fondamentalmente avete che, quando si parla per esempio di strumento analogico, non significa che è completamente analogico, cioè significa che la maggior parte dei blocchi e magari anche del principio di funzionamento è un principio analogico, i blocchi sono blocchi analogici, quindi che non prevedono magari una conversione analogico digitale e quindi poi un'elaborazione di dati. Però poi, tutto sommato, in molti di questi strumenti, soprattutto moderni, c'è sempre una piccola sezione digitale. Per esempio, io qua vi ho riportato, giusto per farvi un esempio, uno schema blocchi di un analizzatore di spettro a supereterodina, che è uno degli strumenti che andremo anche ad analizzare tra oggi e domani, probabilmente con domani, che appunto mette in evidenza come la maggioranza di blocchi che lo costituiscono è di fatto una sezione analogica, ed sono blocchi analogici, ma poi, per esempio, la parte di elaborazione dei dati, la parte, scusatemi, di visualizzazione dei dati sul display spesso è affidata invece ad una sezione digitale, quindi dove poi vedrete una conversione analogico digitale e da questa poi vengono, diciamo, estratti i campioni che verranno visualizzati sullo schermo, un po' come accade con l'oscilloscopio digitale che avete, diciamo, studiato col professore Betta. Vi anticipo che sull'analizzatore di spetta a supereterodina faremo giusto un accenno dei principi, non andremo a certi livelli di dettaglio, perché quei livelli di dettaglio li toccherete con il corso che fa il professore media al secondo livello su telecomunicazioni, in cui, diciamo, gran parte del corso si focalizzerà proprio sullo studio di nasione di spetta, perché è uno strumento, diciamo, soprattutto per le applicazioni di telecomunicazioni, veramente fondamentale. Noi invece ci soffermeremo, per quanto riguarda strumenti analogici, principalmente a capire, appunto, i metodi che si possono implementare con gli analizzatori a banchi di filtri e a filtri sintonizzabili, accenneremo un pochino a, diciamo, l'analizzatore di spettro a supereterodina, su cui, ripeto, l'approfondimento lo troverete nel corso del secondo livello. Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti strumenti digitali, anche qui ne esistono una certa tipologia, anche se poi possiamo, diciamo, tutto sommato riferirci principalmente ai cosiddetti FFT analyzer e ai real-time spectrum analyzer che sono nati da una decina d'anni. E, ancora una volta, li classifichiamo come strumenti digitali perché hanno una maggioranza di blocchi che lavorano, diciamo, su una sequenza di campioni acquisiti, quindi convertiti da analogico in digitale, con tutte le regole che poi andremo anche a studiare, diciamo, giovedì. Però, tutto sommato, la maggior parte di questi strumenti prevede anche una sezione analogica, soprattutto nel front-end iniziale, quindi nelle parti iniziali che si collegano al segnale che si deve, appunto, analizzare e che, diciamo, di fatto, è fatto, essendo fatto in analogico, fa sì che questo strumento, queste analogiche di strumenti, non debba essere vista come completamente digitali. Ecco perché, diciamo, le virgolette analogici e digitali. Comunque, detto questo, allora, iniziamo per adesso a concentrarci su quelli analogici, e, in particolare, iniziamo a studiare gli analizzatori di spettro a banchi di filtri paralleli. Innanzitutto, analizziamo il principio di funzionamento, quindi l'idea che c'è dietro la realizzazione di una talia di tipologia di strumenti. Allora, qual è l'idea? Allora, come dice la parola stessa, io voglio ottenere lo spettro del mio segnale in ingresso, X di T, perché in ingresso a me entra un segnale X di T, che magari è costituito, che avrà un certo spettro di questo tipo, quindi non mi sto facendo il problema se è uno spettro di un segnale a righe, se è un segnale non periodico, quindi, diciamo così, un generico segnale, tutti i concetti che vedremo parrebbero indipendentemente dal fatto che si tratti di un segnale periodico o no. e quello che l'idea è dedicata a banchi di filtri paralleli è quello di fare in modo che questo segnale X di T venga portato in ingresso ad un banco di filtri, quindi un certo numero di filtri, qua indicato con M, che operano in parallelo, che sono dei filtri passabanda, quindi dei filtri che hanno una risposta in frequenza, diciamo, che permette di far passare solo determinate frequenze all'interno di un certo range, che è la banda passante del filtro, tutti questi N filtri sono in realtà tra loro non collocati alla stessa frequenza centrale, ma in modo tale da, sono collegati a frequenze centrali, tali da, diciamo, non avere delle sovrapposizioni, e quindi, diciamo, due filtri adiacenti di questo banco hanno appunto, non condividono teoricamente la stessa banda, la stessa banda passante, e così via, fino ad arrivare a N, e, diciamo, giusto per cominciare a chiamare, come, con i propri nomi, alcuni elementi fondamentali di questi strumenti, questi filtri BPF, quindi Band Pass Filter, sono caratterizzati da, appunto, una banda passante che in gergo tecnico viene chiamato anche Resolution Banded, quindi banda di risoluzione, perché poi potete immaginare, e lo vedremo un po' meglio dopo, che la larghezza di banda di questi filtri poi di fatto coincide con la risoluzione in frequenza che, diciamo, riusciamo a garantire. E quindi, in generale, più è piccola questa Resolution Banded, più è piccola la banda passante, quindi, del filtro, e più, diciamo, riesco a discriminare componenti, in generale, anche vicine del segnale in ingresso, componenti spettrali vicine del segnale in ingresso, come vedremo con qualche esempio grafico dopo. Però l'idea, quindi, qual è? Quello di splittare, praticamente, il segnale in ingresso su più canali, ognuno caratterizzato da un filtro passabanda centrato ad una certa frequenza, e fare in modo da, poi, sfruttare gli output di questi filtri, che, ovviamente, nel dominio della frequenza possono essere ottenuti come, fondamentalmente, y di f uguale a h1 di f per x di f, dove, ovviamente, la y iesima di f coincide con la moltiplicazione dello spettro iniziale per, diciamo, la risposta in frequenza dell'iesimo filtro. E quindi, che cosa significa? Significa che, non so, questo filtro qui farà passare solo la parte in frequenza del segnale, che corrisponde alle frequenze che capitano all'interno di questa banda passante. E quindi, magari, a questo elementino qua, che ho indicato con 1. Quest'altro filtro farà passare solo le frequenze che entrano all'interno della propria banda passante, e quindi quelle che rientrano nell'elemento 2, e così via, fino ad arrivare all'elemento n. Quindi, in pratica, che cosa succede? Che lo spettro del segnale in ingresso, x di t, lo spettro incognito, è ottenuto, in pratica, sovrapponendo, in maniera contemporanea, visto che sono n banchi, cioè n filtri in parallelo, gli output degli n BPF, quindi degli n Band Press Filter. E qui c'è riportata più o meno una formuletta che spiega anche, di fatto, da un punto di vista analitico, come si ottiene questo Y di F. Poi, ovviamente, se le H e i F sono a guadagno unitario, fondamentalmente io, diciamo, non ho introdotto né amplificazioni, né attenuazioni allo spettro, e quindi, in pratica, le ampiezze che andrei a misurare di questi blocchetti corrisponderebbero proprio all'ampiezze dello spettro del segnale in ingresso. Ok? Su questa cosa qua, diciamo, vi è chiaro il principio di funzionamento? Datemi un feedback. Sì, prof. Ok, perfetto. Allora, a questo punto, da un punto di vista pratico, come potrei andare a implementare questo principio di funzionamento? Attraverso uno schemino che è quello riportato qui. In pratica, avete il segnale XDT, che viene mandato in ingresso a N bandpass filter, caratterizzati ciascuno da una propria frequenza centrale e dalla stessa resolution bandied RBW, e poi, vedete, a valle del filtro a frequenza, del filtro, scusatemi, del filtro passabanda, come faccio ad estrarre poi l'ampiezza effettivamente del segnale? Attraverso un blocchetto che pure dovreste aver già studiato bene in altri corsi, che sono dei rivelatori di sviluppo. Ovviamente, diciamo, nelle slide successive c'è anche spiegato come funzionano anche i rivelatori di sviluppo in modo tale da richiamare certi concetti, però dovete immaginare che qui ci sarà ancora un segnale nel dominio del tempo, potenzialmente, diciamo, una sinusoide, perché se la risoluzione di questo filtro è molto spinta indipendentemente della caratteristica spettrale di questo segnale, io qua potrei trovarmi un segnale che è costituito da una singola componente frequenziale o comunque da poche componenti frequenziali, il rivelatore di sviluppo seguirà l'inviluppo, diciamo, del segnale nel dominio del tempo. Il rivelatore di sviluppo 2 farà la stessa cosa, però, su quest'altra porzione di frequenze e così via. Poi, che cosa succede? Che, sebbene tutta questa struttura sia una struttura estremamente, parallela, poi, poiché il display è unico e viene gestito da un'unica, diciamo, circuiteria, c'è necessità di un multiplexer che, vedetelo come un interruttore analogico, che, diciamo, collega, diciamo, una volta, non so, il ramo 1, poi, per un certo intervallo di tempo, collegherà, dopo un certo intervallo di tempo, scusatemi, collegherà il ramo 2, il ramo N sul display, in modo tale da costruire fondamentalmente lo spettro. Come si fa a fare queste operazioni? Allora, da un lato ci sarà un generatore di impulsi che, appunto, andrà ad attivare il multiplexer, per dirgli, passa da ramo 1 al ramo 2 fino a ramo N in maniera sequenziale, dall'altro ci sarà un generatore di lampa, un po' come l'avete visto anche nell'oscilloscopio digitale, che ha lo scopo di andare a creare quella deflessione fondamentalmente orizzontale sul display per consentire di scorrere praticamente l'asse delle X e nel caso specifico, ovviamente, l'asse delle frequenze. Per cui, che cosa significa? Significa che se io parto da un certo segnale X di T, che ha per esempio uno spettro che è non nullo solo in questa zona qui, però per qualche motivo io ho selezionato un insieme di frequenze di analisi che prende anche il nome di span di analisi che va da un certo valore di fmin fino a un certo valore di fmax che è esterno allo spettro del segnale d'ingresso, quello che accadrà è che i primi BPF, quelli là diciamo più vicini a fmin, magari mi daranno delle uscite nulle e poi dal momento in cui inizia a un certo BPF, scusatemi, qua non va bene 1, 2N ma dovrebbero, diciamo, 1, 2 magari potrebbero stare qui, questi saranno diciamo dei bandpass filter intermedi, successivi ovviamente ai primi che mi daranno contributo non nullo perché il segnale in ingresso diciamo ha realmente delle componenti spettrali all'interno di questo range di frequenze verrà mano a mano costruito lo spettro fino a a un certo punto se il segnale finisce in termini spettrali i successivi bandpass filter andranno a rilevare quantità nulle cioè i successivi rilevati inviluppi risurranno quantità prossime a tumore e quindi lo spettro si azzererà quindi in questo modo che cosa diciamo otteniamo otteniamo implementiamo in maniera ovviamente uno schema blocchi semplificato senza andare nei dettagli di cosa possa essere il generatore di impulsi di come possa essere realizzato il generatore di rampa e così come possa essere il display però vi dà un'idea di come potrebbe poi essere implementato quel principio di funzionamento cioè quello di avere dei filtri paralleli un banco di filtro parallelo con altrettanti rivelatori di inviluppo e poi fare in modo che le uscite di questi singoli elementi vengano poi disegnate su un display in modo tale da visualizzare lo spettro del segnale ok a questo punto spendiamo qualche parola su appunto le i due elementi che costituiscono questo schema e che vedremo costituiscono anche gli schemi degli strumenti successivi che sono il filtro passa a banda e il rivelatore di inviluppo per quanto riguarda il filtro passa a banda quello che sicuramente lo caratterizza in generale è la frequenza centrale a cui opera il filtro passa a banda e la banda passante a 3db che come vi ho già anticipato prima prende il nome anche di resolution bandwidth perché prende il nome di resolution bandwidth perché se vediamo quest'altra slide capiamo un po' meglio questo concetto perché quella banda passante può essere anche diciamo denominata come banda di risoluzione del filtro perché perché fondamentalmente se supponiamo di avere per semplificarci la vita due componenti spettrali quindi abbiamo un segnale che è costituito per lo meno da due componenti spettrali distanti tra loro in frequenza un certo delta f allora che cosa succederebbe se io avessi un filtro passabanda che è centrato e da una resolution bandwidth maggiore di delta f ed è centrato in modo tale che le due componenti spettrali capitino all'interno diciamo della banda passante tutte e due contemporaneamente quale sarebbe la conseguenza la conseguenza è che poiché all'interno del filtro capitano tutte e due fondamentalmente l'output diciamo di questo filtro sarebbe un output piuttosto confuso in generale perché vedrebbe la la somma diciamo nemmeno in fase quindi non sappiamo nemmeno in che modo andrebbero a sommarsi queste due componenti spettrali quindi anche l'uscita sarebbe un'uscita che tiene conto un po' di quello che succede in maniera anche abbastanza casuale della somma di queste componenti quindi sicuramente quello che io mi aspetto in una situazione del genere è che se poi vado a valle quindi sul rivelatore di inviluppo e quindi anche sul poi alla fine sul display dove trovo disegnato lo spettro di vedere magari una certa variabilità che è una cosa che in generale non piace perché significa appunto soprattutto se questa variabilità è casuale significa diciamo una grossa indeterminazione sul segnale non sulle caratteristiche del segnale diversa invece è la situazione del caso 2 cioè caso in cui a parità di delta f quindi vedete non è cambiata la distanza fra le componenti spettrali io ho una resolution bandit quindi un filtro bpf che è caratterizzato da la resolution bandit minore di delta f allora in quel caso che cosa succede? succede che le due componenti spettrali a quel punto sono isolate quindi discriminate singolarmente sono distinguibili e quindi a quel punto sicuramente otterrei delle misure più affidabili da due punti di vista innanzitutto riuscirei a dire che ci sono due componenti spettrali e non una sola perché le riuscirei a vedere distintamente e quindi riuscirei a caratterizzare meglio il numero di componenti spettrali per esempio presenti all'interno del segnale ma in più poiché all'interno del si mi scusi l'audio si sente molto disturbato guardate un attimo adesso provo a fissare un po' meglio il microfono un secondo solo provate un attimo adesso mi sentite meglio più o meno sempre come prima un attimo solo provo allora a ricollegare meglio e adesso provi un attimo a parlare per vedere eh sì stavo dicendo della resolution bandwidth più piccola di delta F sembra che va meglio va meglio ok allora proviamo così ho trovato forse una posizione migliore per il cavo allora dicevo nel caso di appunto in cui la resolution bandwidth dei miei filtri è minore di questa distanza tra le componenti spettrali in ingresso allora io riesco a fare delle misure senz'altro più affidabili perché innanzitutto riesco a identificare il fatto che ci sono due componenti spettrali in questa situazione in quest'altra ne direi che ce n'è una sola perché poi il risultato del filtro diciamo non è che proprio per la scarsa risoluzione del filtro non riesco a vederne due ma ne vedrò una combinazione di queste ma poi diciamo i risultati a valle dei due filtri adiacenti sarebbero comunque dei risultati molto più stabili perché perlomeno non avrei la combinazione casuale della somma delle componenti che avrei qui dentro qui se le componenti sono fisse l'ampiezza sarà tutto sommato fissa e quindi in generale diciamo in questo secondo caso farei ovviamente delle misure più affidabili qual è ovviamente quindi il problema è che in generale io vorrei avere in generale delle resolution banded più piccole possibile perché così potrei fare misure più affidabili in generale ora per quanto riguarda il rivelatore di inviluppo invece ricordiamoci un attimo come funziona il rivelatore di inviluppo è un circuito elettronico basato su elettronica analogica in cui fondamentalmente partendo da un segnale che può avere per esempio questa forma quindi una sinusoide diciamo caratterizzato appunto da un inviluppo che ha un certo andamento grazie all'impiego sostanzialmente di un raddrizzatore e di un filtro passo a basso si ottiene che l'attenzione di uscita del rivelatore di inviluppo è esattamente l'inviluppo del segnale di partenza raddrizzato quindi non tenendo conto diciamo della parte negativa del segnale ora che cosa quali sono ancora una volta gli effetti sulla uscita del rivelatore di inviluppo di situazioni pratiche che potremmo avere allora supponiamo un primo caso in cui il segnale è puramente sinusoidale il segnale in ingresso quindi rappresentabile attraverso questa relazione e che appunto nel dominio del tempo è questa sinusoide nel dominio della frequenza sappiamo bene che lo spettro associato a questo segnale è una riga spettrale alla frequenza f in e allora cosa succede che nel momento in cui questo segnale va in ingresso a filtro passabanda supponiamo iesimo è centrato sulla frequenza f in proprio sulla frequenza f in cosa succederebbe che a valle del filtro passabanda ovviamente il filtro fa diciamo appunto passare questa componente e quindi qui in ingresso al rivelatore avrei esattamente una sinusoide nel dominio del tempo quindi un segnale identico praticamente a questo a meno del guadagno del filtro e quindi a questo punto se il segnale è sinusoidale quello che mi aspetto come output del rivelatore è un diciamo un inviluppo costante perché l'inviluppo di questo segnale non è non è non ha diciamo non ha una modulazione non c'è una variabilità e quindi fondamentalmente mi aspetterei un segnale costante cosa succede se mi trovo invece con un segnale in ingresso che sto analizzando che per esempio ha una modulazione in ampiezza e quindi che diciamo prevede un andamento nel tempo di questo tipo in cui voi avete una portante che sarebbe la frequenza più alta che viene modulata in ampiezza ancora una volta in maniera sinusoidale attraverso appunto un segnale modulante con ampiezza con frequenza ovviamente molto più bassa cosa succede allora innanzitutto qual è lo spettro del segnale di ingresso se vi ricordate un pochino dai corsi diciamo di comunicazione di telecomunicazione di segnali quando avete visto i segnali dsb piuttosto che i segnali am vi probabilmente ricorderete che lo spettro di un segnale si è fatto a modulazione in ampiezza è uno spettro che prevede diciamo appunto tre toni uno centrato alla frequenza della portante e poi altri due toni di ampiezza più bassa in generale dipendente dalla profondità di modulazione che sono collocati a frequenze f portante meno f modulante f portante più f modulante quindi distano tra loro rispetto alla frequenza portante esattamente del valore della f modulante allora supponiamo che in queste condizioni io abbia a disposizione una resolution bandwidth che è minore di questo fm che altro non è che quel famoso delta f di cui parlavamo in qualche slide precedente perché la distanza fra diciamo due componenti spettrali allora con queste impostazioni cioè con questa impostazione cosa succede che nel momento in cui diciamo sto andando considerando il bandpass filter che è praticamente centrato su f in meno fm in pratica che cosa succede che lui selezionerà effettivamente solo f in meno fm perché è in grado di farlo la resolution bandwidth diciamo mi consente di isolare singolarmente le componenti e quindi che cosa succede ancora una volta ci avrò una uscita del rivelatore di sviluppo che è costante perché sta facendo passare un'unica componente spettrale dopodiché quando andrà a intervenire diciamo il prossimo bandpass filter cioè quello centrato alla frequenza successiva farà passare solo diciamo la componente alla frequenza portante e quindi ancora una volta qui ci avremo una sinusoide e quindi ancora una volta qui al valle del rivelatore di inviluppo avremo un inviluppo costante e così via per quanto riguarda diciamo anche la componente successiva che si trova a destra della frequenza portante ovviamente questo è un caso positivo cioè in una condizione del genere io riesco a discriminare le tre componenti e poi misurarne anche le ampiezze perché ovviamente la vout sarà una vout diversa a seconda della frequenza del segnale in ingresso quindi ho disegnato sullo schermo vedrò appunto esattamente questi tre toni in pratica invece a parità di segnale in ingresso se per qualche motivo la mia resolution bandwidth è maggiore invece della distanza frequenziale fra queste componenti e quindi per esempio ci troviamo in una situazione del genere quello che accade è che appunto tutte e tre o magari due su tre a seconda di quanto questa resolution bandwidth è più grande di FM capitano all'interno del filtro con l'effetto che quello che sta arrivando qui dentro non è più una pura sinusoide diciamo quindi caratterizzata da una sola ampiezza ma sarà un segnale che è somma tutto sommato di sinusoidi e quindi diciamo che va a far sì che poi l'uscita del rivelatore di inviluppo sia a sua volta caratterizzata da un'uscita appunto ondulatoria e che potrebbe poi rendere difficile innanzitutto la misura perché appunto a quel punto non avendo più una tensione costante cosa ne faccio di questo segnale ne faccio un valore efficace ne faccio una media e in più sicuramente non mi consentirebbe in una situazione del genere di discriminare la presenza di tre componenti e quindi sarei tendenzialmente portato a dire che se facessi solo l'analisi del segnale e di quello che vedrei sullo schermo a valle del rivelatore di inviluppo senza conoscere assolutamente la natura di questo segnale quello che io posso aspettarmi è che semplicemente un segnale ad ampiezza variabile può sembrare una singola sinusoide ad ampiezza variabile mentre invece era un segnale modulato AM o DSB ok quindi fondamentalmente diciamo l'importanza della resolution bandwidth ancora una volta messa in evidenza attraverso in qualche modo degli esempi e in questo modo abbiamo quindi visto come questi due blocchi che facevano parte del primo schema cioè analizzatore diciamo basato su banchi di filtri paralleli siano come funzionano e come sia in particolare fondamentale il ruolo del filtro passabanda ok a questo punto cosa mi aspetto di trovare sul display in generale di un analizzatore di questo tipo fondamentalmente è un display molto simile a quello degli oscilloscopi costituito da un certo numero di divisioni spesso graduate caratterizzate da una larghezza e da un'altezza che determinano che dipendono dalle scale che andate a scegliere e quindi avete una vertical scale e una horizontal scale ovviamente sulle vertical scale avrete le ampiezze e spesso nel caso del dominio della frequenza si utilizzano i decibel come unità di misura per poter diciamo rappresentare e vedere componenti anche molto distanti tra loro in ampiezza mentre invece sull'asse delle 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 X quindi sulle sulle ascisse trovate il range di frequenza che voi andate state andando in quel momento a visualizzare che tipicamente è selezionabile dall'utente cioè voi potete scegliere una start frequency oppure una stop frequency e quindi magari anche provare a fare degli zoom se è necessario su delle aree di spettro che vi interessano tipicamente una cosa che pure vi trovate riportato sullo schermo di questi strumenti è la resolution bandwidth utilizzata in quel momento proprio perché è un parametro molto importante che è necessario conoscere e che tipicamente gli strumenti ne consentono anche di selezionarne più di una o in maniera automatica o in maniera manuale da parte dell'utente è un parametro che solitamente viene indicato su questi schermi e poi il reference level che rappresenta è il valore massimo diciamo del segnale in termini di ampiezza il valore massimo è tipo come se fosse un fondo scala perché è il valore massimo che io potrei rappresentare con queste scelte di impostazioni è ovvio che se vi doveste trovare con una traccia che è molto più bassa rispetto a questa ed è molto più bassa rispetto al reference level che avete scelto significa che dovete abbassare un po' il reference level per portare la traccia a pieno schermo e quindi fare tutti i ragionamenti che avreste fatto anche con avreste fatto anche con il con con il con il chiedo scusa con il con lo sciloscopio digitale per quello che riguarda oppure analogamente un altro aspetto che pure è importante è evitare che il reference level sia più basso della massima tensione del segnale in ingresso altrimenti andreste in saturazione detto questo quali sono le però problematiche di realizzabilità di un analizzato di spettro a banchi di filtri paralleli allora in generale diciamo quali sarebbero i desideri di chi realizza questi strumenti e poi di chi li utilizza è quello di poter avere una resolution banded quanto più piccola possibile per consentire diciamo di ottenere appunto buone risoluzioni e quindi fare la analisi più dettagliate più affidabili e poi si vorrebbe una prestazione costante sull'intero range di frequenza da analizzare e quindi diciamo si vorrebbe garantire che anche se questo range come spesso accade è un range che va da pochi kHz fino anche a qualche gigahertz o qualche decina di gigahertz le prestazioni siano tutto sommato costanti e allora questo in generale non è facilissimo da ottenere soprattutto per analizzatori di spettro a banchi di filtri paralleli perché innanzitutto se io voglio una resolution banded molto piccola e devo assicurare un'analisi su un range di frequenza abbastanza ampio ovviamente significa che bisognerebbe aumentare il numero di filtri che operano in parallelo e questo comporterebbe senz'altro un aumento dei costi in più da un punto di vista pratico non è semplice avere n filtri centrati a frequenze differenti scusate e che però garantiscono le stesse prestazioni proprio per un fatto di fisica realizzabilità dei filtri e quindi quello che accadrebbe è appunto che le prestazioni non sono costanti sull'intero range di frequenza e quindi va a decadere diciamo il secondo aspetto che dicevo prima cioè prestazioni costanti sull'intero range di frequenza di analizzare l'unico vantaggio che avrebbe un'architettura del genere è quello che consentono di analizzare delle componenti spettrali contemporaneamente quindi diciamo proprio perché avete l'effetto parallelo di più filtri e di più rivelatori di inviluppo che contemporaneamente rilevano le caratteristiche di una certa area di frequenza contemporaneamente sullo stesso segnale significa che fondamentalmente un'architettura del genere è un'architettura che riesce ad inseguire anche gli spettri non stazionali quindi se avete un segnale in ingresso che non ha uno spettro stazionale e quindi che è continuamente variabile come accade in molte applicazioni soprattutto moderne questa tipologia di strumenti sicuramente è una tipologia assolutamente diciamo adatta in generale cosa invece prevedono l'altra architettura cioè l'analizzatore di spettro a filtro sintonizzabile il principio di funzionamento qui è un po' diverso nel senso che invece di avere un banco di filtri paralleli si ha un unico filtro che lavora a sintonia variabile cioè un po' come quello che succede con lo stereo di casa quando voi cambiate la manopolina e andate a sintonizzare i vari canali a cercare la stazione diciamo di radio DJ piuttosto che di radio KISKIS o di RTL e così via quello che andate a fare è fondamentalmente spostare la frequenza di centro banda di un filtro passa banda appunto che vi permette poi di appunto ricevere il e poi demodulare ovviamente la radio 1 piuttosto che la radio 2 allora il concetto dell'analizzatore di spettro a filtro sintonizzabile è esattamente lo stesso cioè è quello di immaginare di avere diciamo un filtro di larghezza un filtro passa banda di larghezza di banda ancora una volta rbw che diciamo va a traslare sull'asse delle frequenze partendo da una certa frequenza iniziale fino ad una certa frequenza diciamo finale e facendo in modo che permanendo per un certo intervallo di tempo diciamo su ciascuna di queste porzioni di banda praticamente va a ricostruire lo spettro di uscita del segnale del segnale in ingresso quindi fondamentalmente lo spettro è formato unendo i contributi ottenuti dalla traslazione degli output dell'unico filtro passa banda sulle varie frequenze centrali f con i dove ovviamente le f con i sono idealmente date da questa formuletta qui quindi due frequenze adiacenti differiscono ovviamente del valore di resolution band in modo tale da traslare e coprire tutto lo spettro diciamo di interesse nella formuletta che in qualche modo si va a va a descrivere questo funzionamento vedete che rispetto a prima mentre prima avevamo il pedice i in corrispondenza di diciamo dell'h perché avevamo fondamentalmente che avevamo tanti filtri in parallelo operanti a frequenze diverse qui invece il filtro è unico quindi la h è unica ma opera a frequenze diverse di volta in volta quindi proprio perché c'è questa sintonia che ne permette diciamo di variarne la frequenza centrale da un punto di vista di schemi a blocchi come si può implementare una cosa del genere allora ancora una volta segnale di ingresso a questo questa volta qua abbiamo un unico filtro passa a banda abbiamo detto però per il quale è necessario diciamo avere una frequenza centrale che è variabile nel tempo per scandire l'intero range di frequenze che voglio analizzare e allora come si fa a ottenere questa cosa attraverso un oscillatore locale a frequenza variabile cioè un dispositivo che è in grado di generare un segnale una frequenza scusatemi diciamo variabile e nel caso specifico attraverso una legge lineare perché fondamentalmente io devo scandire in maniera costante un certo range di frequenze per ottenere lo spettro e allora che cosa fa questo VCO di fatto poiché è un generatore controllato in tensione quindi un oscillatore controllato in tensione per una data tensione in ingresso fornisce una certa frequenza in uscita e quindi mano a mano che cresce questa tensione aumenterà la frequenza e quindi consentirà di spazzolare praticamente diciamo orizzontalmente l'intero asse di frequenza ovviamente ancora una volta lo schema sarà completato dal rivelatore di inviluppo che ovviamente ha lo stesso significato dello schema precedente e dal generatore di rampa che oltre a appunto fornire una tensione di riferimento al VCO per creare questa spazzolata in frequenza ovviamente si occuperà anche di gestire di pilotare il display per consentire diciamo di allinearsi a questa spazzolata e quindi la costruzione dello spettro lo schermo sarebbe identico diciamo così a quello dell'analizzatore di spettro a banchi di filtri con l'unica differenza che tipicamente trovate anche un'indicazione sullo sweep time che sarebbe il tempo necessario a passare dalla prima frequenza che è andato ad analizzare fino all'ultima perché come vi dicevo prima questa cosa qui si basa questo principio si basa sul fatto che ad un certo istante t con 1 io sono centrato su una certa frequenza f1 poi all'istante t con 2 sarò centrato sulla frequenza f2 e così via fino ad arrivare all'ultima porzione che devo andare ad analizzare e ovviamente diciamo a questo punto anche in questo caso abbiamo qualche problemino in particolare diciamo il fatto di avere un unico filtro con sintonia variabile non è una cosa facile da un punto di vista realizzativo soprattutto se io voglio mantenere delle resolution bandit molto piccole sull'intero range di frequenza ed in più c'è un altro problema grosso è che le singole porzioni di spettro 1, 2, n sono ottenute in istanti temporali diversi e quindi se per qualche motivo durante la spazzolata il segnale in ingresso vale il suo spettro di fatto quello che io vado a vedere è un qualcosa di poco coerente cioè nel senso che vedrei porzioni di spettro che si riferiscono ad un certo segnale in ingresso e altre porzioni di spettro che si riferiscono ad un segnale che nel frattempo non essendo stazionare magari è variato per cui diciamo è una soluzione che sicuramente è molto complicata da gestire se non su range di frequenza molto molto bassi tutta sommata un'architettura molto economica perché vedete non c'è tutto il discorso di duplicare nuplicare parallelizzare diciamo i filtri e i rivelatori però ovviamente diciamo va bene se devo analizzare i tempi di frequenza molto piccoli quindi sicuramente non devo diciamo fare analisi sui segnali per esempio moderni detto questo diciamo direi di chiudere la lezione di oggi e poi di continuare domani con gli analizzatori di spettro a supereterodina ok ragazzi avete qualche domanda anche se siamo un paio di minuti sforati rispetto alle 11 ok allora se non avete domandi arrivederci grazie arrivederci arrivederci